Immaginate un mondo dove le donne si uniscono come sorelle. La sorellanza è un legame speciale che va oltre l'amicizia. Rappresenta un'unione sociale, etica ed emotiva. La ragazza bionda dice che insieme siamo più forti e che l'emancipazione arriva solo con alleanze solide. Non dobbiamo vederci come rivali, ma come sostenitrici l'una dell'altra. La ragazza dai capelli color rame aggiunge che ogni donna porta il suo talento unico. Valorizzare le differenze crea un gruppo potente. La sorellanza ci incoraggia a sostenere i sogni reciproci, a lottare per i diritti e a costruire un futuro migliore. Siamo uniti che nel concetto cammine possiamo cambiare il mondo.